Il corso Professional, comunicare lo sport attraverso i social media, affronta alcune tematiche che sono diventate cruciali nella comunicazione sportiva. Per esempio la costruzione di un piano editoriale dove si possa raccontare non soltanto le performance sportive, ma anche tutti i valori e le caratteristiche delle società e delle loro attività. Per esempio la costruzione della web reputation di una società sportiva che ha caratteristiche differenti da quelle di un'azienda o di un'istituzione o di un'associazione di altro tipo. Oppure ancora come ascoltare la rete, una rete in cui sia gli atleti, sia i fan, sia altri soggetti che sono strettamente legati alle società sportive, parlano e possono fornire degli spunti di comunicazione, ma soprattutto degli orientamenti per una corretta costruzione del racconto della società sportiva attraverso i social media. Per esempio la costruzione della società sportiva attraverso i social media.